Ed eccoci qua, sono diventato il mini rod spazzino E adesso spazzerò via Rod, il gelataio Carissimi amici, è arrivato panino tube E oggi torniamo su escro in quattro Perché questa volta diventeremo il mini rod spazzino Nel video di ieri siamo diventati il mini rod normale Questa volta diventeremo il mini rod spazzino E spazzeremo via il nostro caro gelataio cattivo Si, caro rod, preparati per essere spazzato via Ma quindi che dire partiamo subito Ma come sempre c'è di questo tanto tantissimi like Se like che nascerete sarà per il personaggio Se ci trovi sarà il mini joseph Che comparirà su ice cream 5 Se vi ci like sarà dispera il personaggio Se ci trovi sarà il mini rod spazzino Fatemi sapere qui sotto nei commenti A quale mini rod siete associati Iscriviti al canale con la campanella attiva Così anche voi farete parte della parino femmine Partiamo subito, camminciamo Perché non vedo l'ora di diventare qua il mini rod spazzino E spazzare il rod una volta per tutte Caro rod, preparati Preparati perché questa volta sarò molto più agguerrito Rispetto al video di ieri Ebbene si Ieri siamo diventati il mini rod normale E il rod purtroppo è riuscito a prenderci Ma questa volta mi farò più furbo Sarò molto più furbo della volta di ieri Allora facciamo cadere qua la solita chiave inglese Raccogli qua Togliamo il lucchetto Su su e tagli sto lucchetto Insomma insomma Sempre qua a fare le cose Via 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 Tanto il mini rod guardate qua C'è insomma Io cammino come se nulla fosse Ma lui non mi vede Quindi ce ne andiamo via Ce ne andiamo via Veloce, veloce, veloce Andiamo di qua Adesso qua ci sarà sempre il nostro caro michetto Boris Ma anche Boris Presto Verrà spazzato via Anzi Boris verrà proprio spazzato via Persino dal tetto della fabbrica Visto che ieri non voleva neanche cadere da questo semplice buco Vabbè Andiamo avanti Proseguiamo qua con la nostra avventura Evitiamo soltanto il mini roddino Ecco qua Qui non c'è il trofeo Vediamo qua se lo troviamo Ma soprattutto facciamo attenzione al mini roddino Che quello ci viene a prendere E se ci viene a prendere Fa tanto rumore Via 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 Ok non ci ha visto Che poi insomma Gli sono passato lì davanti Non mi ha neanche visto Vabbè ma lasciamo perdere Non facciamoci troppe domande Roddino caro Ma buonasera rodd Su su vieni qua Vieni qua caro gelataio E che stai a fare di là E che fai insomma Ok E vieni qua Stavolta ti sistemo per bene Su Prende questo Ah 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 Via 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 Saliamo 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 Veloci 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 Ah 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 Stavolta Roddino Ti ho preso subito Ti ho preso subito in pieno Allora evitiamo qua soltanto il mini roddino Prima c'era roddino Adesso c'è il mini roddino Che dobbiamo fare attenzione Taglie qua Taglie qua Chiodo numero due Chiodo numero tre Ho detto Insomma Prendi sto chiodo E togliamo anche il chiodo numero quattro Perfetto Prendi qua la scaletta Facciamo soltanto attenzione al roddino A roddino Ma che piacere Non apri qua la porta Via 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 Avete visto c'era il mini roddino Che mi ha bloccato la cosa Sì stavo per dire la scala Via Scappiamo 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 Veloci 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 Apri qua Su Apri di qua Perfetto Scendiamo subito sotto E vai No ma avete visto rodd dove me lo son trovato Proprio davanti Me lo son trovato davanti Allora qui da queste parti ho lasciato il trofeo Eccolo qua Perfetto Abbassate qua la scaletta Perfetto Sali 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 Opla Chiodo numero uno E lo togliamo Che poi in realtà più che chiodo una vite Ma va bene Togliamo anche quest'altra vite Perfetto Andiamo di qua Veloci 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 Prendiamo la scaletta Mamma mia Non ho mai fatto ste robe così acrobatiche come oggi Va bene Ma Prima o poi avrei dovuto farle Andiamo di qua Lungo questo condotto Così possiamo già mettere la scaletta Ok via Tagli qua Roddino caro E non ce l'hai fatto a prendermi Non ce l'hai fatta Sei troppo lento Sei troppo lento E quindi proseguiamo Visto che non voglio stare dietro i tempi di Rodd E insomma Devo ancora diventare il mini Roddino Ma pian piano ci divento Non vi preoccupate Diventerò il mini Roddino spazzino E spazzerò il Rodd Diventerò come lui Come lui In quel modo diventerò Con la scopa Entrò lì a spazziare A pulire anche l'intera fabbrica Andiamo di qua Velocemente Senza farci vedere dal mini Roddino Metti qua la scaletta Bravissimo Già che ci sono Posso pure qua l'asse di legno Così mi porto avanti con il lavoro Proseguiamo di qua E andiamo a cercare subito L'estintore Che potrebbe trovarsi Da qualunque lato Ok L'estintore potrebbe trovarsi Ad esempio di qua Spero di trovarlo presto E te pareva E te pareva Che mi facessero trovare Subito l'estintore Manco mi mettessi qua a pagare Allora Vediamo qua dentro Se si trova l'estintore Faccio soltanto Attenzione a mini Rodd Che non è di qua Via di qua Da questo lato Mini Roddino Tu fai il bravo Fai il bravo Non metterti a suonare Come fai te Come il tuo solito Che sto coso Si mette a suonare Via di qua Da questo lato E abbiamo trovato L'estintore Perfetto Andiamo subito A rompere il tetto Crepato Tu dormi E non ti svegliare Non ti svegliare Caro mini Roddino Così andiamo subito di qua E te pareva E te pareva Che lì mi trovassi Mini Roddino Spazzino E vabbè Io prendo la scorciatoia Me ne passo di qua Ce la stiamo facendo Ok Ah buono Dai Sono riuscito a passare Senza farmi vedere Neanche da mezzo Mini Roddino No no Seriamente In sto video Da nessuno Mi sono fatto vedere E che è successo qua Che è successo Che nessun mini Roddino Mi ha visto Ma meglio così Meglio così Non facciamoci troppe domande Adesso Dovrei trovare i coni gelato Ma vediamo se ne troviamo qualcuno Però qualcosina All'interno del gameplay Vorrei divertirmi No Dopotutto siamo su Ice Cream Uno dei miei giochi preferiti E vorrei divertirmi Alla grande Via di corsa Andiamo a mettere subito Questo cono gelato Come se nulla fosse Quindi Cono gelato numero uno Piazzato E vai E questo L'abbiamo messo subito 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 Ok Passiamo di qua No Mi ha visto il mini Roddino Mi ha visto Quindi Rodd adesso presto Verrà da questo lato Ma io mi faccio furbo Passa da questo lato Vediamo se troviamo Quel cono gelato Che alcune volte Lo trovo qua dentro No no Seriamente Una volta L'ho trovato di qua In mezzo a mezzo a mezzo a mezzo a mezzo a mezzo a te cianfrusa E diventeremo molto presto E diventeremo il mini Roddino lui ed eccoci qua sono diventato il mini rod spazzino e adesso spazzerò via rod il gelataio rod caro preparati presto verrai spazzato da mini rod spazzino anzi da mini panino rod vieni qua mini rod dove sei adesso prima spazzo via lui prima ti spazzo via ok vieni qua a me sono fuori uso già che ci sono gli prendo pure qua la tessera e così mi porta avanti anche questo mini rod spazzino è tesserato per bene oppure lui la tessera va bene dai vieni qua svegliati mini rod vieni qua che adesso ci penso io a te no mi ha preso mi ha sballato pure la visuale quindi devo tornare così perfetto e vabbè mini rod però e vabbè e che roba è che abbiamo fatto qua vediamo se riesco a prendere anche gli altri mini rod se riesco a spazzarli per bene non vedo l'ora di spazzarli come si deve non vedo l'ora venete qua mini roddine che è venuto qua il mini panino rod a spazzarvi dove siete dove siete non nascondetevi voi non potete nascondervi davanti a me davanti al mini panino rod vieni qua eccolo qua anche lui è stato preso eccolo qua che bello che bello sì però qua mi sballa sempre la visuale come potete ben vedere ok va bene proviamo a fare una cosa va proviamo a mettere qua adesso il god mod e il ghost mod in modo da poter analizzare pure bene gli altri pulsanti perché se noi andiamo sempre qua su mini menu anzi facciamo una cosa ve lo ingrandisco per bene altrimenti qua non riusciamo a vedere niente niente di niente ok ingrandisce qua perfetto adesso si riesce a leggere qualcosa e che roba qua si vabbè mini roddine non è per te ma che è successo ma mi aveva messo fuori uso e meno male che ho il ghost mod il ghost mod allora andiamo qua su mini roddine ci sono alcuni pulsanti no che ne possiamo premere alcune cose ad esempio walk mi dà l'animazione della camminata il mini roddine si mette a camminare solo che qua non stiamo camminando e che abbiamo messo qua i tapirulani invisibili come c'è la boris va bene allora poi abbiamo qua idle normal penso che si metta normale ok idle rest ah così si addormente il mini rodd che sta dormendo così ok no non stava dormendo così non dorme così il mini rodd poi cosa abbiamo idle fall e buonanotte mini rodd che si mette pure lì a cadere fall direttamente così dorme e basta buonanotte mini rodd buonanotte dormi e fai sogni belli look around si mette lì a guardare intorno se c'è qualcosa giustamente lì controlla la situazione anche se effettivamente sti mini roddine che sono molto affidabili col controllo no perché io me ne vado via dalla fabbrica sì volevo dire dalla gabbia e il mini rodd non dice niente non dice niente che uno è scappato dalla gabbia stali tranquillo come se nulla fosse ma vabbè non facciamoci domande cos'è white nose che fa si mette in questo modo si mette non lo so vabbè si mette in quella posizione sweep ah si mette così a spazzare rodd ecco qua ho trovato l'animazione adatta per spazzare rodd per spazzarlo via mi metterò in questo modo per spazzarlo ah 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 poi cosa abbiamo ancora abbiamo alarm ah ok si mette in allarme electro cute ah così quando viene colpito dall'electro gun get up su su svegliati rodd svegliati ah get up 2 vabbè e poi cosa abbiamo all attack ah si mette a fare la rotazione elettrica in quel modo con la testa perfetto main general pirb cos'è boh non lo so mini c player mini attack player ah si mette a fare il verso su su e mo perché si è addormentato in quel modo poi cosa abbiamo mini hobbip ah questi sono i versi che dice va bene ok questi sono i rumori dei mini rodd direi che vabbè questi possiamo pure evitarli va di sentire adesso cerchiamo un rod caro il nostro caro roddino e spazziamolo per bene allora cosa abbiamo attivato qua abbiamo messo il god mod il ghost mod direi di togliere il ghost mod lasciamo il god mod e stavolta spazziamo rod gelataio dove ti sei nascosto ma cosa ma perché si è messo a fare in quel modo aiuto metti fuori uso sto mini rod ma che è successo non succede niente non si fa niente il mini rod via 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 scappiamo scappiamo aspettate provo a mettere qua il ghost mod vedete lo posso prendere non si fa niente il mini rod non si fa niente ma perché non si fa niente ma io volevo spazzarlo volevo spazzarlo definitivamente rod gelataio caro dove sei finito dove sei finito che adesso vengo a spazzarti ti metto fuori uso ti metto fuori uso e mi divertirò con te a spazzarti definitivamente dove sei caro roddino ok questo me l'ha messo fuori uso questo l'ha messo fuori uso perfetto ma rod caro dove sei caro gelataio non vieni qua non vieni sentire l'allarme dei tuoi mini roddini a quanto pare no 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 seriamente ma dov'è rod dovrebbe venire qua non viene roddino caro ma che ti è successo che ti è preso eccolo qua quest'altro mini rodd l'abbiamo messo fuori uso ma non c'è rodd ma che si raffatto roddino dobbiamo trovarlo assolutamente dobbiamo trovarlo e spazzarlo definitivamente come possiamo fare per trovarlo allora potremmo utilizzare la mod no che ci dà direttamente la funzione che ci teletrasporta da rodd però voglio provare a cercarlo prima secondo me se la cerchiamo sarà ancora più divertente andiamo di qua veloci 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 andiamo qua ad aprire la porta vediamo se si trova nel suo garage quindi apri qua premiamo il pulsante no no ma seriamente ma rodd quando serve non viene mai quando non serve me lo trovo ovunque su su sali qua da ste scale mini roddino il mini rodd che sale dalle scale ma che bello molto presto preparatevi perché farò un mega confronto dove confronteremo rodd con mini rodd e boris ma voglio pure vedere che cosa succede se io provo a colpire qua gli amichetti ah ok non succede nulla non succede nulla se provo a colpirli va bene proseguiamo qua avanti con la nostra partita ok mettiamo fuori uso questo mini rodd via 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 ok messo fuori schiuso perfetto andiamo qua vediamo se riusciamo ad aprire la porta se ce la fa aprire si ce la fa aprire meno male meno male roddino gelataio ma dove sei dove ti sei cacciato che ti sto cercando ti sto cercando ovunque vediamo se è qui sotto non è neanche qui sotto si è di qua ma dov'è rodd vieni qua vieni qua caro gelataio che adesso ti spazzo per bene ti spazzo per bene roddino fate spazzare fate spazzare via si che bello e adesso prepariamoci a spazzarlo come si deve quindi mettiamo qua andiamo qui davanti a lui mettiamo l'animazione di spazzare mini menu ed ecco qua stiamo spazzando rodd stiamo spazzando il nostro caro gelataio spettacolare bellissimo spettacolare vai che bello e niente con rodd messo fuori uso direi di fare qua l'ultima rotazione elettrica dopodiché direi di finire qua il video fatemi sapere cosa ne pensate mi raccomando se avete lasciato like sotto questo video veramente lasciato perché è veramente qualcosa di divertente quello che abbiamo fatto qua spero che questo video sia piaciuto se vi è piaciuto mi vi raccomando spallicciate così vi siete iscritti per il canale con la campanella attiva noi ci vediamo al prossimo video e come sempre vi auguro una buona giornata per la serata buonanotte ciao a tutti e buon panino a tutti e buonanotte ciao a tutti